I carabinieri del Comando Provinciale di Messina e del ROS e la Polizia hanno eseguito in provincia di Messina e in altre località nazionali un'ordinanza di custodia cautelare messa dal GIP su richiesta della Procura Distrettuale della Repubblica nei confronti di 40 persone accusate a vario titolo dei delitti di associazione mafiosa, estorsione consumata e tentata, rapina, trasferimento fraudolento di valori e reati in materia di armi e violenza privata. Accuse tutte aggravate dal metodo mafioso. L'inchiesta riguarda la mafia barcellonese operante prevalentemente sul versante tirrenico della provincia di Messina. Nello specifico i carabinieri hanno dato esecuzione ad un provvedimento a carico di 29 persone, 22 in stato di libertà e 7 già detenute per altra causa. Mentre contestualmente la Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un analogo provvedimento nei confronti di altre 11 persone, 8 in stato di libertà e 3 già detenute. L'indagine scaturisce dagli esiti delle inchieste che hanno avuto originariamente ad oggetto il riscontro delle dichiarazioni del capo mafia Carmelo D'Amico, arrestato nel 2009 a seguito dell'operazione Pozzo e di alcuni altri esponenti di spicco della Cosca, tra cui i collaboratori di giustizia Salvatore Campisi, Franco Munafo e Alessio Alesci, anche loro destinatari di analoghe misure cautelari condotte a termine nel 2013 e nel 2015. L'inchiesta che colpisce vertici affiliate alla fazione più ortodossa e militarmente organizzata della criminalità mafiosa della provincia peloritana, capace di documentate interlocuzioni con esponenti di Cosa Nostra palermitana e catanese, ha consentito da un lato di documentare come il sodalizio sia stato sistematicamente in grado di riorganizzare i propri assetti interni a seguito delle operazioni di polizia che nell'ultimo decennio ne hanno ripetutamente decimato le fila e dall'altro di fare piena luce su decine di episodi estorsivi verificatisi nell'area tirrenica barcellonese tra il 1990 e il dicembre 2017, individuandone puntualmente mandanti ed esecutori materiali. Particolarmente allarmante il ritrovamento di due veri e propri arsenali a disposizione delle cosche, con due fucili a pompa, un fucile mitragliatore, quattro pistole semiautomatiche e un revolver di grosso calibro con centinaia di munizioni. Segno dell'imponente capacità di fuoco della famiglia mafiosa barcellonese, tenuta in grande considerazione dagli esponenti di Cosa Nostra di Palermo e Catania. Almeno una trentina gli episodi di estorsione ricostruiti dal pool di magistrati. Gli esattori del racket continuavano a colpire, anche se sottoposti, alla sorveglianza speciale, sempre con lo stesso modus operandi. Il primo avvertimento era una bottiglia di liquido infiammabile davanti alla saracinesca del negozio o dell'impresa da intimidire. Seguiva l'avvicinamento dei titolari delle attività da parte degli uomini d'onore che chiedevano il pagamento del pizzo per Natale, Pasqua e Ferragosto. Chi non si piegava finiva vittima di rapine a mano armata o picchiato selvaggiamente per strada, come accaduto ad un imprenditore d'Ile che aveva osato chiedere il legittimo pagamento per una fornitura di calcestruzzo ad una ditta vicina alla Cosca o a un professionista di Barcellona che aveva osato denunciare un tentativo di estorsione. Tra le persone in manette spicca i nomi del boss Antonino Merlino, già condannato per l'omicidio del giornalista Beppe Alfano, e Francesco Salamone, eletto consigliere comunale di maggioranza con una lista civica al comune di Terme di Vigliatore a giugno 2013. È successivamente sospeso dalla carica nel 2016 perché colpito da una misura cautelare nell'ambito dell'operazione Triade.